musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non si fermano non si fermano le news riguardante la nuova modalità get away ragazzi quella che arriverà domani sembrerebbe con l'update vi ricordo che i server andranno giù ragazzi alle ore 10 del mattino come siamo abituati ogni giorno ogni settimana ogni due settimane a vedere e arriverà finalmente la nuova modalità che come sapete ragazzi ci regalerà la nuova skin wild cards e un bel po di oggetti annessi alla skin alcuni li state anche vedendo ragazzi alle mie spalle in realtà come sfondo in questo caso il deltaplano è una invece delle personalizzazioni per completare la skin che invece sarà a pagamento ma andiamo ragazzi nel dettaglio a vedere le sfide e che cosa regaleranno 3 2 1 arghindi eccolo qua ragazzi lo spray lo spray con i 4 semi delle carte delle carte spray carte spray carte fai 500 danni ai portagioie avversari allora ragazzi cosa sono i portagioie sono i lama in poche parole quelli che troviamo nei forzieri e se non ho capito male dovete capire ragazzi mio sono in vacanza porca vigliacca riesco a vedere le cose ma non come quando sono davanti vrama al computer così come fate voi a nerdare come un pazzo quindi cerco di riuscire a darvi le news nella maniera più corretta possibile alla peggio non siate arrabbiati con me se per caso non sono precise precise 500 danni ai lama avversari i lama sono praticamente quelli che troviamo dentro i forzieri, dentro gli airdrop quelli che abbiamo visto questa mattina nel gameplay 500 danni otterremo lo spray esclusivo della modalità spray che diventerà sicuramente molto molto raro per i giocatori futuri di fortnite proseguiamo ragazzi andiamo avanti non ci fermiamo e con la raccolta di 5 portagioie in 5 differenti match otterremo ragazzi una scia esclusiva che come vedete mostra proprio i soldi che vanno in giro a profusione come se fossimo paperon bellissima la scia esclusiva vi ricordo anche che con la skin destiny no destiny con la skin devastazione quella che c'è stata settimana scorsa per la prima volta si è potuta ottenere un'altra scia esclusiva quindi molto molto interessante questo meccanismo che Epic Games sta facendo per regalare tra virgolette per inserire anche delle scie e renderle anch'esse di rarità molto molto interessante ultima ragazzi ma non meno importante completando tutte e tre le sfide delle challenge ragazzi otterremo il mega super piccone a piede di porco ragazzi meraviglioso forse uno dei picconi più belli poi dovremo vedere bene anche sentire più che altro il sound ma già vederlo così già lo immagino con almeno 10 skin che ho ragazzi quindi interessantissimo anche il piccone sicuramente un elemento che non può mancare a questa meravigliosa skin con faccia intercambiabile che anche io come voi non vedo l'ora di ottenere al più presto beh ragazzi questi erano i premi che arriveranno nella modalità get away da domani spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.